salve a tutti benvenuti in una nuova puntata di questa serie calcio kebab e fantasia che sarà in versione commentary perché ho avuto problemi audio che mi hanno detto la registrazione praticamente inascoltabile quindi devo per forza mutare l'audio del gioco per poi commentarlo con voi però voi avete approfitto per fare un esperimento particolare intanto avete visto faccio vedere come qua è arrivato un'offerta per petar milanov io non è sentito ci avevo pensato perché ci ho riflettuto un attimo comunque è una riserva soldi ci servono avrebbero rinforzato la concorrente e poi comunque ecco dai allenamenti quello che comunque ricordato che è in arrivo volendo come riserva baranick che comunque sto allenando quindi ho pensato vabbè a un certo punto ho pensato vabbè ma quasi quasi possiamo venderlo e pagare tirarci qualche soldo in più qui sono andato a trattare andando a trattare per questo giocatore ho provato a figli qualcosa di più esattamente ho provato a fighi a chiedere diciamo 565 mila euro invece di 530 ho detto un poco di più vediamo magari accetta magari no magari una trattativa e loro accettano subito di comprare per 565 mila euro alla fine soldi che entrano e che comunque ci possono servire da lì in poi ho comunque ho provato a vedere il calcio mercato soprattutto per i svincolati provato a vedere se c'era qualcosa da poter prendere svincolati e non ho notato questo abdulaziz al jaman notato soprattutto come come vedrete voi fra poco per la possibilità per il fatto che probabilmente hanno prima di lui scusate perché lo sto commentando diciamo in dieta nel senso sto registri commentando vedendo quelle immagini ecco dal lì e jaman velocissimo sembra essere velocissime troppe vediamo fra i convocati anche questo abdul al kulaif al kulaif molto interessante nel frattempo è stato venduto buon peter milanov ah infine lo tenete venduto fate questi soldi bene così e come avete visto insomma ero alla conclusione diciamo della scorsa della scorsa stagione nel quale sto vedendo anche un po le ultime cose con questo acquisto tra l'altro ecco con questa vendita fatta all'ultimo una cosa ho potuto fare è rinnovare il contratto di al zubaidi il contratto di al zubaidi che diciamo perlomeno a livello puramente numerico mi serviva mi serviva perché altrimenti mi sarei ritrovato con un solo terzino sinistro che per quanto mi andasse bene buon naif mohamed averne uno solo è un po un problema per una stagione lunga e quindi ho fatto questa trattativa che comunque è stata anche abbastanza tranquilla lui si è proposto come sporadico quindi alla fine niente di che due anni li ho accettati perché comunque questa sarà l'ultima stagione e quindi due o più anni uno due più anni cambiava poco quindi ho deciso alla fine di accettare di accettare questo rinnovo stipendio visto ne prendeva 3.800 ho detto io fai qualcosa di più 5.000 con ora lo vedrete penso adesso lo vedrete sì 10.000 euro i bonus di ingaggio poco però pensavo insomma che ho pensato che potesse andare bene anche se temevo che potesse rifiutare chiedere altre somme e invece no ritengo un'offerta equa accettano via così alla grandissima dopo un altro allenamento che ho di strantempo comunque ho continuato a allenare la squadra allenamento devo dire abbastanza proficuo sono andato poi alla ricerca di altri di eh alla ricerca diciamo di altri giocatori soprattutto svincolati visto che comunque il eh il il budget è sempre stato piuttosto risicato qua chiudiamo la stagione chiusura con il quale comunque il presidente ci dice stracontento di averci ancora noi di avere ancora con con sé il buon Giampiero Ventura allenare la propria squadra quindi chiudiamo la stazione iniziamo con budget che come vedete è piuttosto risicato 3 milioni circa 3 milioni e qualcosa e all'incirca 30.000 euro di budget stipendi insomma non tantissimo eh però con questi vediamo come facciamo a fare fatto questo allora subito mi sono buttato sui svincolati e ho cercato i svincolati quelli che mi servivano intanto terzini in difesa perché la difesa era era il reparto che più di tutti aveva bisogno di qualche appuntelamento o perlomeno di ricambi all'altezza sono andato girando un po' vedendo un po' vari nomi nessuno particolarmente finché ho posato gli occhi su questo Narayan Das indiano quindi anche abbastanza ignorante poi ho fatto ancora un altro allenamento scusate è molto improvvisato tutto questo è un tentativo di recuperare la questa puntata cucurella notato ecco vedete questi sono giocatori che che diciamo ho notato e ho messo in lista trasferimenti che ho notato eventualmente e poi comunque ho notato questo Gozie Norris che non è male dovete essere sincero non è male poi metteteci pure che si chiama Norris ed è un difensore centrale cioè un Norris non può fallire diciamo Walker Texas Ranger chiunque di voi penso l'abbia visto e poi continuato alle ricerche insomma di di altri giocatori qua siamo agli inviti qua ho visto un attimo la situazione per il torneo degli inviti ho provato a vedere un attimo se c'era qualche partita particolare qualche personale particolare da affrontare nulla di che e allora ho bellamente diciamo optato per il torneo che dava un potenziale premio in denaro più alto e sono andato allora su quello 2.450.000 se lo si vince non è malaccio via così poi sono arrivati i resoconti su Sheifazez questo era un altro che avevo notato diciamo però poi ho visto insomma non era nulla di che e ancora Gozzi e Norris ci giravo sempre ci ho sempre girato un po' attorno e poi anche Pritam Kotal è un altro che ho notato molto interessante secondo me tra l'altro prende anche poco onestamente quindi diciamo che sarebbe stato un ottimo acquisto anche a livello economico per quanto riguarda la panchina come vedete come riserva del buon Fraser Hyde non era male qua è arrivato mi è arrivato un'offerta per Almutairi onestamente ho pensato questo con noi non gioca mai siamo stracoperti in attacco direi che l'Hamilton che non c'è niente col pilota di Formula 1 poteva tranquillamente cioè poteva tranquillamente prenderselo questo giocatore e così ho accettato l'offerta abdo cuore vi anticipo purtroppo che è andata male perché perché si perché è andata male perché ha rifiutato lui comunque eh eh a Missy e al Zubaidi hanno chiesto di giocare e siccome si trattava di una partita amichevole ho accettato volentieri ecco qua vi faccio vedere insomma vi faccio vedere gli ho schierati a centro campo gli ho schierati diciamo in campo poi ho dovuto anche fare i cambi cambiare il portiere perché Arboleda era impegnato con la nazionale quindi ho dovuto mettere il buon Antonio Donna Roma e questo mentre vedete insomma il dettaglio ecco di tutti i cambi vi spiego mi sono un po' raffazzonata che quello che sto cercando di fare visto che devo recuperare con un commentary questa eh questa puntata ho pensato di provare a fare una cosa un po' diversa eh un esperimento diciamo da problemi se non so cogliere opportunità e ho colto l'opportunità per provare a fare un esperimento ovvero una puntata così commentary eh o meno quello che sto provando a fare che cerco di fare è una puntata commentary un po' in eh versione novantesimo minuto ecco eh boh spero che possa piacervi spero che possa piacervi la cosa spero che possa piacervi eh questo esperimento fatto così per fortuna posso farlo adesso queste puntate eh perché si tratta per fortuna di eh puntate di calciomercato o comunque di amichevoli estive quindi non c'è quell'importanza dei dei tre dei famosi tre punti in palio ecco quindi ho provato sto provando a fare questo esperimento spero che possa essere il vostro gradimento è tutto qua mentre con le immagini si vede che come insomma ho completato la formazione con Amissi e il buon Azubaydi in campo me l'hanno chiesto qua Andan Al-Shamrani un altro interessante ho notato ho messo gli asferimenti anche se poi ecco anche come questo Marsura poi ci ho pensato un altro ho detto ma onestamente ne attacco siamo non coperti di più quindi ehm si ho messo gli asferimenti potrebbero essere interessanti ma è è difficile parecchio difficile che io arrivi a comprarli in tutta onestà detto questo siamo andati alla partita inizia la partita siamo amichevole questa inizia questo torneo la ASEAN Elite Cup contro lo Shimizu purtroppo per un errore di montaggio vi siete persi la maglia dello Shimizu che è qualcosa di straordinario veramente straordinario cross intanto Davis e cross intanto Davis di testa nulla di fatto poi quasi vedere Elindi ruba palla e corre sulla fascia Elindi corre sulla fascia la mette in mezzo e Alfonso Davis mostra di essere già in forma campionato con un gol veramente spettacolare signori veramente spettacolare non so se si è visto bene in presa diretta secondo me si ma per ma per si e per no vi ho lasciato anche il replay per gustarvi per farvi gustare diciamo la magia il gesto atletico del nostro Alfonsino Bello guardate in scivolata al volo in scivolata al volo Alfonso Davis veramente veramente ispirato ed è così che la Siamo un passo in vantaggio 1 a 0 contro lo Shimizu Espulse qua ora vediamo un'azione dello Shimizu con Takekuchi cross in mezzo poi ribatti ribatti in aria e questo tiro insomma non riesco a vedere chi è comunque nulla di fatto da questo e arriva subito il contropiede Billy Bombilli lancia Davis fino in fondo incrocia sul secondo palo dove il portiere lo Shimizu non ci arriva 2 a 0 secondo gol di Alfonso Davis signori se questo mantiene questa forma qua per tutto il campionato abbiamo potenzialmente un'arma devastante in attacco bene così direi no direttamente bene così poi fatti vediamo fatti sulla fascia si per l'uomo prova a mettere in mezzo azione un po elaborata e lindi che la gira di nuovo per Aide che mette in mezzo e Billy al volo da limite dell'aria prova il tiro nulla di fatto portiere para facilmente però subito dopo si ruba palla Billy per Alfonso Davis che la scarica in porta 3 a 0 signori terzo gol di Alfonso Davis guardate il minutaggio 18 minuti 18 minuti la partita è chiusa l'ha chiusa proprio lui Alfonsino bello bello Alfonso Davis già la partita di fatto è chiusa qui Billy Banda intanto vediamo Billy Banda e lindi prova a incurearsi serve Alfonso Davis che prova il poker ma il palo lo ferma e alla fine la difesa manda fuori Sanno manda nel cross al volo cross e Machado in proiezione offensiva prova un bel tiro al volo parata del portiere Ushimitsu ancora Billy si gira bene entra in aria prova il tiro palla a lato poi qua finisce il primo tempo finisce il primo tempo 3 a 0 primo tempo direi ottimo dell' ottimo dell'altavun un primo tempo che promette davvero davvero bene qui come vedete ho deciso di fare un po' di cambi abbastanza cambi inizialmente avevo messo Al Sharani punta centrale al posto di Billy Banda poi ci ho ripensato perché non ti ho detto vabbè perché devo sforzare i miei migliori per una partita già chiusa e allora Al Sharani l'ho messo al posto di Alfonso Davis sulla sinistra con Aziz poi adesso al posto di Fatih e i vari cambi insomma li state vedendo al suo atto al posto di Manuel Boven staffetta con Elindi Amissi rimane in campo perché insomma non c'era problemi e Shamari lo mettiamo in difesa al posto di Machado e basta ho finito di fatto tutti i cambi sono finiti là e ci prepariamo in questa maniera diciamo all'inizio del secondo tempo poi una partita che già diciamo ha detto quello che doveva dire ma l'AltaVun si propone ancora in attacco Amissi poi di batti in aria Boven crossa in mezzo Aziz di testa palla a lato di palla a lato di non molto reagisce però lo Shimizu Takeichi da per Yu che a giro la mette dentro è un po' amnesia difensiva dell'AltaVun al centro purtroppo è un po' il vizio di questa squadra Masegawa Yu Masegawa la mette dentro gol del 3 a 1 gole di fatto sarà gol della bandiera a Suvat prova a servire a Aziz in mezzo al Sharani di testa ribattuto dal difensore poi libera Aziz calcio d'angolo palo di Bili Banda Giafuna al Bishi prova a rigiocare ma perde il pallone ma recupera il pallone a parte di Amissi Aziz Seva Sharani tiro altro palo di Al Sharani insomma un un'AltaVun che si mostra pienamente in forma campionato al Suvat cross al centro Billy traversa di Billy al Sharani prova a prendere prova a rigiocarla Dada Missi che però perde il pallone intanto poi la squadra avversaria prova a ripartire di un'altra azione sulla ripartenza occasione per lo Shimizu con Donnarumma che in qualche maniera blocca il pallone para blocca il pallone e serve al Zubaidi qui poi finisce la partita una partita tranquillamente dominata dal dall'AltaVun con il buon Alfonsino Davis che si alza dalla panchina soltanto per prendere il pallone che spetta a colui che fa a chi ha fatto insomma chi fa la tripletta ecco che dire c'è un'AltaVun veramente promettente quello che avete visto questa puntata vedremo nelle prossime sperando di avvere ancora più questi problemi quindi direi a questo punto solo tutti quanti voi e alla prossima si 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 Grazie a tutti